Questa idea di fare una mostra chiamata Magna Crescia, trovo che è un'idea brillante del Giorgio Ferraris. Sono veramente contento di essere assieme ai colleghi, di partecipare a questa mostra e ci vedremo tutti per l'inaugurazione. Trattanto io continuo a lavorare. Ciao ciao! Fatta a mano! Per me è la seconda esperienza che ho fatto una mostra personale dal Giorgio Ferrarini qualche anno fa. Ho un ottimo ricordo della prima mostra fatta alcuni anni fa con opere che era quasi una mostra antologica. C'erano opere degli anni Sessanta che sono state molto richieste e ricercate, tanto che anche adesso ve li ricercano. E qualcosa abbiamo esposto anche stavolta. L'ipasto da «L'ipasto» L'ipasto dell'ipasto L'ipasto E' il più E' il più Partito Quello Fino vittoria Una bella esperienza, speriamo di far ripetere ancora qualcosa del genere di Giorgio Ferrari. Un saluto a tutti, ciao!